Ci si resta male tutti, insomma, non è che un'allegria per dire. È una comunità in lutto, quella di Faella, frazione del comune di Castelfranco Pian di Scò, dove risiedeva la famiglia di Sofia Panconi, la giovane 21enne stroncata da una meningite fulminante. Un grave episodio, ci stringiamo attorno alla famiglia, ai familiari, alla comunità anche di Faella, per questo episodio che ha veramente messo in imbarazzo, in prostrazione tutta la popolazione, anche per le vicende di carattere attuale che hanno portato il problema dei vaccini ai suoi più ampi livelli di sensibilità. Chiaramente la popolazione è preoccupata, ma oggi emerge il cordoglio e la vicinanza ai familiari della piccola Sofia che veramente lascia un vuoto incolmabile, non solo chiaramente nei propri cari, ma anche in tutta la comunità. Sofia è morta per sepsi da meningite fulminante del ceppo B. Lei era invece vaccinata contro il meningococco C. Quest'ultimo è infatti un vaccino gratuito, mentre il secondo, tranne che per i neonati, è a pagamento in compartecipazione. L'azienda sanitaria Toscana Sud-Est ha già disposto l'avvio della profilassi che riguarderà i familiari, i nonni, gli zii e gli amici che sono stati in contatto nelle ultime ore di vita con Sofia. Il meningococco viene eliminato all'esterno per via respiratoria, con le goccioline della saliva, però la trasmissione avviene in un ambito ravvicinato, già a distanza di un metro, la possibilità di contagio si riduce assai. Oppure con lo scambio della bottiglia d'acqua, del bicchiere, delle stoviglie, dello spazzolino, dei baci, per cui è opportuno fare attenzione a questi comportamenti. Un vaccino sarebbe stato sufficiente a salvare questa ragazza? Probabilmente sì, perché abbiamo osservato che nelle persone vaccinate, è chiaro, la vaccinazione quasi mai offre la protezione del 100%, comunque nei soggetti vaccinati l'andamento della patologia è più attenuato, perché comunque c'è un'attivazione, una risposta dell'organismo.